ciao a tutti io sono Claudio D'Angelis e vi do il benvenuto a questo secondo episodio di google developers live italia dedicato a dart durante il quale analizzeremo un'applicazione una web application l'applicazione che analizzeremo è una implementazione in dart del famoso gioco del tris che pur essendo estremamente semplice ci consente di osservare alcune caratteristiche interessanti di dart innanzitutto vedremo come manipolare gli elementi del dom dopodiché vedremo come stabilire una connessione fra un client e un server e mettere in comunicazione le due parti attraverso il protocollo web socket e vedremo come sviluppare un server http in dart il gioco ha due viste principali a sinistra vediamo il pannello di login mentre a destra la griglia principale del gioco attraverso attraverso la quale i due giocatori si sfideranno vediamo com'è composta l'applicazione abbiamo detto di avere un client e un server il client fornirà ovviamente l'interfaccia grafica mentre il server si occuperà della gestione dei giocatori della sincronizzazione dei dati del gioco attraverso i due client e del calcolo di una eventuale mossa vincente allora vediamo abbiamo detto che client e server comunicano fra loro attraverso il protocollo web socket attraverso uno scambio di messaggi questi messaggi che vengono rappresentati in un oggetto di tipo map contengono un comando e uno o più eventuali argomenti ora prima di essere inviato questo messaggio deve essere convertito in un oggetto di tipo string e per fare questo utilizziamo il metodo stringify definito nella libreria dart json che serializza la mappa e restituisce un oggetto di tipo string al momento della ricezione di un messaggio invece dobbiamo effettuare l'operazione inversa ovvero da una stringa di partenza dobbiamo ottenere una mappa per fare questo utilizziamo un metodo complementare a stringify che è il metodo parse che come vedete in questo semplice esempio restituisce un oggetto di tipo map per inizializzare un nuovo web socket si utilizza questo costruttore new web socket e si passa come argomento l'url del del server e nel nostro caso definiamo il percorso del web socket come ws allora vediamo come avviene il meccanismo di login il client numero uno che assumiamo sia il client il giocatore numero uno invia un messaggio al server nel quale richiede di entrare nel gioco il server risponde con il numero del giocatore associato al client numero uno che quindi sarà il giocatore numero uno e stessa cosa accade per il client numero due una volta che entrambi i giocatori sono entrati il server invia al client numero uno e al client numero due un messaggio in cui è contenuta l'istruzione per l'avvio di una nuova partita facciamo un esempio pratico allora a sinistra scusate abbiamo una finestra di dartium che è il fork di chromium che incorpora la virtual machine in questo browser il codice sarà il codice eseguito sarà codice dart nativo a destra invece vediamo una finestra di firefox nel quale sarà eseguito il codice dart compilato in javascript questo per dimostrare che un'applicazione scritta in dart può essere compilata in javascript e può essere resa compatibile al 100% con qualsiasi browser moderno sia per desktop che per dispositivi mobili allora chiamiamo questo client dartium per comodità ed entriamo nel gioco come vedete il server ci dice che dobbiamo aspettare che entri un secondo giocatore adesso accediamo con il secondo client che chiamiamo javascript per comodità e come vedete la vista del client numero uno è stata aggiornata ora questa è la griglia principale del gioco muoviamo la prima mossa e come vedete la mossa è stata sincronizzata immediatamente anche sul secondo client vediamo come come avviene questa sincronizzazione il client numero uno ha inviato la mossa ovvero ha inviato un messaggio al server in cui in cui specifica la casella selezionata e il numero del giocatore quindi in questo caso nel caso la prima casella della prima riga ha inviato la cella numero 0 come vedremo fra poco e come argomento il numero 1 il server a questo punto dopo aver effettuato che la mossa sia vincente o meno ovviamente non è una mossa vincente per il momento invia ad entrambi client le stesse coordinate e il client aggiorna la vista disegnando la mossa del giocatore ora vediamo il come è rappresentata questa questa griglia all'interno del server rappresentata con una lista con un oggetto di tipo list quindi una lista ordinata di elementi che hanno valori che ha valori di tipo int ovvero numeri interi questa lista all'inizio ha valori tutti uguali tutti uguali a 0 e se il giocatore il giocatore numero 1 seleziona la casella la prima casella della prima riga l'elemento di indice 0 viene aggiornato con 1 mentre se è il secondo giocatore l'elemento viene aggiornato con 2 vediamo l'algoritmo del server per determinare una mossa vincente assumiamo che il giocatore abbia selezionato la la casella la prima casella della prima riga quindi questa identificata con un puntino rosso il se il il giocatore ha selezionato precedentemente anche le caselle corrispondenti agli elementi di indice 1 e 2 oppure gli elementi di indice 4 e 8 oppure 3 e 6 allora la mossa è vincente altrimenti altrimenti no per esempio nel caso in questo scenario vediamo che se l'utente numero 1 seleziona la prima casella della prima riga la la coppia la la mossa vincente la mossa è vincente perché anche queste due caselle sono state selezionate precedentemente dallo stesso dallo stesso utente nello stesso giocatore ora prima di passare ad un'analisi un po più dettagliata del gioco vi ricordo che questo codice è disponibile su github ha all'indirizzo che vedete qui nella slide allora apriamo il dart editor che ricordiamo è l'editor principale lo strumento di sviluppo principale in dart e vediamo che la nostra applicazione ha la seguente struttura abbiamo innanzitutto un client ed un server il server ha la cartella bin in cui sono contenuti i file eseguibili in questo caso abbiamo server punto dart e una una cartella in cui troviamo le librerie che abbiamo definito per 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 l'applicazione analogamente il client a una libreria lib una cartella lib ed una cartella web che contiene le risorse web dell'applicazione quindi il file d'arte principale il file index punto html un foglio di stile e i file generati dal compilatore javascript adesso vediamo il vediamo più nello specifico il file server punto d'arte innanzitutto importiamo le librerie necessarie quindi la libreria di input output la libreria che definisce il la libreria in cui sono definite il metodo stringify e il metodo pass di json e una libreria per le funzioni asincrone dopodiché importiamo la nostra libreria server library allora abbiamo detto che il in un'applicazione in dart il codice viene eseguito a partire dalla funzione main questa funzione a sua volta chiama la funzione run server che come argomenti a il base pat del server e il numero della porta vediamo run server più nello specifico vediamo che accetta due argomenti uno di tipo string e uno di tipo int dopodiché inizializza un nuovo oggetto game handler che vedremo fra poco e definisce una funzione di default per le richieste per gestire le richieste dopodiché avvia il server vediamo che l'indirizzo del server è 0.0.0.0 che significa che il server resterà in ascolto su tutte le interfacce della macchina quindi un giocatore potrebbe connettersi anche da una macchina esterna poi il server crea un nuovo stream controller e successivamente lo abbina ad un web socket transformer e a questo stream controller saranno reindirizzate le richieste che terminano e il cui percorso è ws ovvero le richieste di tipo web socket mentre nel caso di una richiesta qualsiasi il server utilizzerà il request handler di default allora vediamo la libreria principale del server che è game handler che è la classe game handler che ha come vedete alcuni campi necessari per il gioco quindi due giocatori il numero di mosse eccetera dopodiché ha un oggetto di tipo set quindi un insieme non ordinato di elementi che conterrà il le due connessioni dei due giocatori dopodiché abbiamo questo metodo on connection al quale sarà passata il web sarà passato il l'oggetto web socket dallo stream controller che abbiamo visto in precedenza dopodiché il la funzione on message che sarà avviata alla ricezione di un messaggio analizzerà questo messaggio e a seconda del del comando ricevuto eseguirà una serie di istruzioni quindi nel caso del del comando get number che il comando di login innanzitutto il server si accerterà che c'è abbastanza spazio per un nuovo giocatore dopodiché come vedete in caso negativo invierà il comando di accesso negato dopodiché se il primo giocatore ancora non è stato definito allora il server associa il player numero uno al al giocatore numero uno e invia il e invia un il comando set number al client analogamente se il player numero uno è stato già definito significa che il nuovo giocatore sarà il player numero due ora vediamo vediamo il client abbiamo il file index.html che contiene la struttura la struttura dell'interfaccia quindi tutti gli elementi del dom che successivamente saranno manipolati e vediamo che verso la fine il file include il file l'applicazione app punto dart vediamo questo file che importa come abbiamo detto prima per il server importa le librerie fondamentali quindi la libreria html la libreria json dopodiché importa la nostra libreria client library all'avvio dell'applicazione la funzione main chiama la funzione draw logo che disegna il logo o xo che avete visto sulla schermata principale dopodiché inizializza un nuovo oggetto di tipo game che vedremo fra poco e inizializza una nuova connessione qui come vedete vengono associate alcune funzioni vengono associate delle funzioni di callback all'evento on click di questi due elementi quindi del pulsante di login e della griglia principale del gioco come vedremo fra poco allora vediamo velocemente la libreria gui in cui sono definite tutte le operazioni di manipolazione del dom innanzitutto vengono definiti gli elementi top level ovvero gli elementi del dom accessibili da tutte le funzioni definite in questa libreria abbiamo login panel che è il contenitore della finestra di login game panel che è il contenitore del gioco e così via i bottoni di input gli elementi canvas eccetera ora vediamo alcune funzioni di questa libreria per esempio draw grid si occuperà della del disegno della della griglia sul pannello come vedete dart è estremamente familiare infatti queste funzioni di disegno su un oggetto canvas sono assolutamente identiche al al suo corrispettivo in javascript stessa cosa accade per la manipolazione degli elementi del dom come per esempio nel caso della funzione hide login lui nasconde il pannello nasconde il pannello di login e mostra invece il pannello principale del gioco e così via come vedete assolutamente familiare adesso passiamo velocemente alla classe game in cui sono definiti due oggetti di tipo player e un insieme che contiene le celle le caselle già occupate e questo è necessario per impedire che un utente clicchi selezioni due volte la stessa cella oppure selezioni la cella occupata dall'avversario e vediamo la classe principale del client che è la classe connection questa classe ha questi campi abbiamo innanzitutto il campo websocket l'url che sarà costruita per inizializzare il websocket e un'istanza di game come abbiamo visto per il server il client alla ricezione di un messaggio tramite websocket analizzerà il messaggio analizzerà quindi la stringa ricevuta la convertirà in un oggetto di tipo map e a seconda del comando ricevuto il client il client farà delle determinate operazioni quindi nel caso del comando start il client associerà gli elementi ricevuti agli elementi correnti del gioco quindi come abbiamo visto per esempio il l'oggetto me e l'oggetto opponent sono due istanze della classe player e avvierà alcune funzioni per la manipolazione del dom quindi in questo caso chiamerà la funzione update game stats che è definita nella nella gui quindi update game stats eccola qui che associerà come contenuto del paragrafo mi stats delle informazioni sulle statistiche ovvero il nickname e il punteggio e il punteggio corrente ok per per questo episodio è tutto io vi ricordo che questo codice è disponibile su github sull'account di gdl italia e vi do appuntamento al prossimo episodio